Professor Pizzolato, le tre ragioni, tre motivi per cui votare no al prossimo referendum costituzionale? Prima di tutto per una ragione di metodo per la quale io sono sono convinto che questo no sia carico in realtà di valori costruttivi, di valori positivi, perché questo no qualora prevalesse, significherebbe dal mio punto di vista che esiste nei cittadini una capacità di difesa civica, una disponibilità a prendersi cura della Costituzione perché vi vedono la garanzia di una convivenza plurale. Dunque la capacità di saper dire no a ogni forzatura di maggioranza sulla Costituzione è pregna di valori positivi, di riconoscimento del valore positivo di una convivenza plurale, questo per me è fondamentale. No perché la direzione di fondo di questa riforma è una direzione ambigua perché a mio avviso oltre avere molti pasticci dal punto di vista tecnico sulla composizione contraddittoria del Senato, sui meccanismi con cui si disciplina nel procedimento legislativo, la direzione di fondo è sbagliata a mio avviso che è quella di interpretare i cittadini solo nella veste di elettori, come se il compito in una democrazia dei cittadini fosse quello di investire periodicamente un'elite del compito di governare il Paese. Io credo che la nostra Costituzione nel fondare la democrazia sul lavoro avesse in mente un'idea più continua, più feriale dell'apporto dei cittadini, che sono chiamati a provare a rispondere ai loro bisogni anche con la loro capacità di organizzarsi, non solo scegliendo capi. Io questo la difendo e difendendo questa idea difendo il tessuto plurale, sociale e istituzionale che invece questa riforma tende a semplificare a vantaggio di un capo.